Ci sono tre vite stroncate, questa bambina madre e quel padre che è rimasto? Perché per lui la vita anche per lui è finita. E se queste persone lasciano libere, quello non finisce mai. È il giorno della rabbia e del dolore a San Leo, dove hanno perso la vita la piccola Letizia Fiacchino, la bambina di 10 anni e sua madre, Marzanna Barbara Stepien, 51enne, originaria della Polonia. Tra volte da una microcar guidata da un quarantenne romano ubriaco con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo plurimo aggravato dallo stato di ebrezza. La bambina viveva con il padre e la madre Luca Fiacchini in via Morgagni, poco distante dal luogo dell'impatto mortale con l'auto. Questa mattina sul luogo dell'incidente è stato un continuo via vai di conoscenti residenti che hanno portato fiori e candele per ricordare mamma e figlia. Sono rimasta senza parole, veramente. È buonissima, simpatica. È bimba amica di mia figliola. Cosa devo dire? Questo romano che fa? Fra due giorni esci? Vado, vai. Da mio paese, qualcuno ammazza? Va la galera, 25 anni subito. Non prendi mai i patenti. Ci saranno questi incidenti sempre, perché loro si sentono liberi di fare quello che li pare. Essendo così ubriaco, guida, avete visto cosa è successo? Noi praticamente ieri verso le sei e mezzo, più o meno è successo, abbiamo iniziato a vedere ambulanze a tutto fuoco. Ci siamo affacciati, era appena successo. Abbiamo capito che era stata una macchina che aveva messo sotto una mamma con la bambina che stavano attraversando qui nel marciapiede. Cosa che io con lui, da quando è nata, l'ho fatta tutti i giorni e a pensarci mi vengono i brividi. Perché con quante volte ho percorso io questa strada con lui, comunque la macchina camminava tanto. L'unica cosa che mi ha fatto veramente allibire è il comportamento di questa persona. Si è rivolto anche a noi, proprio alla folla, che bisognava farci gli affari nostri, che lui tanto non aveva niente da perdere, che tanto a lui non gli avrebbero fatto niente. Hai ammazzato una mamma con una bambina e non hai neanche un minimo di coscienza, di ritegno, di rispetto per una famiglia che hai distrutto. Perché hai distrutto una vita che aveva tutta la vita davanti. Cioè in una maniera atroce proprio, atroce. E non hai un minimo di coscienza proprio. Cioè l'hanno dovuto portare via perché qui ieri sarà veramente arrischiato il linciaggio.